E' partita la stagione dei congressi provinciali del PDL, oggi è presente il presidente della regione Giuseppe Scopeliti per fare il punto della situazione legata alla stagione del partito. L'obiettivo è quello di arrivare ovviamente ai congressi partecipati, poi lungo questo cammino, questo percorso che nasce anche dal confronto interno al partito emerge un dato straordinario che ci fa anche riflettere. Quattro dei sei congressi ad oggi sono unitari, Reggio Calabria con le elezioni domani con la candidatura di Daniele Romeo e di Antonio Pizzimenti, al coordinamento della grande città di Reggio Calabria, quella di Catanzaro con la presidente Vandaferro insieme al consigliere Mario Magno, quella di Vibo Valencia con la candidatura di Nazareno Salerno e di Alfonsino Grillo e quella di Cosenza con Simona Loizio come coordinatore e Fausto Orso Marso come vice coordinatore. Quindi come si può notare abbiamo cercato di fare delle scelte anche di un certo profilo, cioè di un gruppo dirigente in grado di governare i territori e di essere sicuramente un riferimento importante per i cittadini all'interno ovviamente delle varie comunità. Grazie. 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 Grazie.